Sono sul piede di guerra i genitori dei circa 300 bambini che frequentano gli esili nido comunali di Brindisi e che senza preavviso alcuno si sono visti aumentare le rette fino al 400 per cento. A momenti che in realtà erano attesi visto che rientrano nel piano di riequilibrio finanziario approvato dal consiglio comunale ma non si immaginava di questa entità tanto meno ad anno scolastico già in corso. Sì siamo arrabbiate in quanto in meno di una settimana abbiamo ricevuto due notizie sia per quanto riguarda la l'etichetta mensa scolastici della scuola primaria con neanche 48 ore di preavviso e ieri l'altra notizia dell'amento delle rette dell'asilo nido. Il comune dal canto suo rassicura che gli aumenti saranno assorbiti del nuovo bonus nido previsto nella legge di bilancio dello Stato ma i genitori lamentano che i tempi per ottenerlo sono lunghi si parla di cinque mesi e che intanto dovranno anticipare le somme e non tutti possono permetterselo ecco perché molti meditano di ritirare i propri figli dal nido. Nel frattempo si sono rivolti all'associazione dei consumatori ad hoc per cercare di capire che tipo di azioni anche legali possono mettere in campo. La tematica sarà affrontata non solo a livello politico ma anche dal punto di vista legale perché riteniamo che ci siano dei fetti di legittimità per quanto riguarda il provvedimento adottato da parte dell'amministrazione sia nella tempistica ma anche nelle modalità.